Ciao a tutti programmatori, l'esercizio che vi propongo oggi è in linguaggio Python, a difficoltà due pitoni su cinque e si intitola il piccolo Gauss. È un semplice problema famoso per essere stato risolto in modo molto intelligente dal matematico Gauss, quando era solo un bambino. Dovrai realizzare un programma che somma tutti i numeri da 1 a 100 e stampa a schermo il risultato. Vediamo come dovrà funzionare. 1. Appena avviato il programma stamperà il titolo il piccolo Gauss. 2. Subito dopo stamperà l'istruzione premi invio per sommare tutti i numeri da 1 a 100. 3. Il programma aspetterà l'invio da parte dell'utente. 4. Appena premuto invio verrà stampato il risultato che, se avete fatto tutto giusto, dovrebbe essere pari a 5050. Hey, non fate i furbi, non stampate semplicemente 5050 senza fare alcun calcolo. Scrivete qua giù nei commenti la vostra soluzione, ma attenti, per evitare spoiler, guardate i commenti solo dopo aver già provato a risolvere l'esercizio. Un bel mi piace è sempre molto ben gradito e se volete rimanere aggiornati sui prossimi esercizi e imparare il linguaggio di programmazione, cliccate il tasto iscriviti. Ora mettetevi all'opera, sono curioso di vedere le vostre soluzioni. A breve pubblicherò la mia. Buon divertimento e buona programmazione. A presto!